È stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione della nuova scuola primaria di Tavullia in strada del piano. Ad un anno circa dalla pubblicazione della graduatoria del Ministero dell'Istruzione, che ha assegnato all'amministrazione comunale un finanziamento da 4,3 milioni di euro a copertura dell'investimento, prenderanno presto il via i lavori per realizzare una struttura in legno moderna, antisismica ed edificata secondo i più efficienti criteri energetici. Avrà dieci classi, come quella esistente, però rispetto a quella esistente, che chiaramente ha fatto la sua storia, perché è del dopoguerra, non ha spazi di ampliamento, negli ultimi anni hanno cercato di fare il meglio con quello che c'è. Adesso questa scuola, oltre a prevedere due sezioni, quindi dieci classi, ha una sua mensa e un corpo palestra, che può essere utilizzato anche come auditorium. Devo dire che la proposta progettuale della ditta chi ha vinto, che è un raggruppamento temporaneo di impresa con capofila subissati di Ostravetere, ha dato delle caratteristiche tecniche, delle migliorie che sono sorprendenti. Da un anno a questa parte, nonostante la pandemia, tutte le difficoltà, sono cambiate anche le regole per gli appalti, e quindi abbiamo dovuto rivedere tutto il quadro economico per la sicurezza Covid. Siamo riusciti a farlo, devo ringraziare l'occasione di fare questa conferenza in provincia, anche per ringraziare tantissimo gli uffici della sua, la stazione unica appaltante, perché hanno fatto un ottimo lavoro. La cosa che tengo di più a dire a tutti è che io vorrei che le famiglie rimanessero a Tavuglia a crescere i loro figli. Dare servizi e tutte le opportunità per crescere figli in un paese come il nostro è un punto a nostro favore, a nostro vantaggio. Obiettivo del cronoprogramma? L'apertura della nuova scuola a settembre 2022. È stato questo anche un punto della gara, cioè i tempi di realizzazione, perché abbiamo visto che le caratteristiche tecniche lo consentono. Io vorrei che i bambini entrassero a scuola a settembre del prossimo anno, questo è un sogno. L'apertura di una scuola è sempre una cosa grandiosa, è una cosa che mi fa, come dicevo, particolarmente felice, perché si stanno finalmente buttando le basi per fare delle scuole che siano non solo accoglienti, ma che siano anche e che diano spazio allo sviluppo della fantasia dei ragazzi. Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, ha poi ricordato il piano di investimenti del Ministero dell'Istruzione destinato alla provincia pesarese per gli interventi di edilizia scolastica negli istituti superiori del territorio. Sono arrivati 7 milioni di euro che stiamo già investendo in alcune strutture, come dicevo, sulle scuole superiori. Abbiamo messo più di 4 milioni nelle scuole dell'entroterra, perché credo che sia importante tutelare le scuole nelle aree marginali, quelle che ci sono rimaste, di scuole, mantenerle vive e fare in modo che abbiano uno sviluppo sempre più importante. Perché? Perché se vogliamo che la gente rimanga a vivere nell'entroterra, dobbiamo creare servizi e strutture perché uno ci rimanga. Grazie. Grazie. Grazie.